Prende il via a Caltanissetta il bilancio partecipativo. Questa mattina l'amministrazione comunale ha indetto una conferenza stampa. In che modo funzionerà questo bilancio? Ecco, questo non è il bilancio partecipativo così come noi intendiamo realizzarlo all'interno di questo periodo, di questa esperienza amministrativa che noi faremo. E' soltanto una piccola sperimentazione dettata dal fatto che solo la scuola settimana è stato varato il bilancio di previsione e dentro il mese di novembre occorreva impegnare la spesa relativa appunto al bilancio partecipativo che è computata in 40.000 euro. Allora, in raccordo con i vari assessori interessati, con la commissione bilancio, abbiamo individuato un breve percorso che dia il senso dell'esperienza partecipativa. Le somme esigue, coinvolgere più realtà organizzata della comunità avrebbe creato dei problemi di gestione. Allora, abbiamo avuto modo di pensare che coinvolgendo i quartieri e le società, le associazioni sportive, si potesse creare un insieme di ipotesi progettuali da finanziare con questa somma di 40.000 euro, provando a declinare anche le finalità sociali inclusive dello sport e l'animazione dei quartieri attraverso iniziative che dallo sport potessero nascere. Si tratta, ripeto, di una sperimentazione che avrà tre step, tre momenti. Un momento assembleare, un momento progettuale e poi un momento di scelta dei progetti e delle ipotesi progettuali che verranno elaborate.